Fin dalla presentazione dei candidati alla segreteria del congresso provinciale del PD di Caserta, toni molto accesi, lei non ha utilizzato mai mezze misure, uno dei bersagli preferiti è stato Francesco Piccirillo, perché? Guardi, io credo che il ruolo dei giovani sia essenzialmente quello di riportare il dibattito sui temi, con il signor Piccirillo che io non ho ancora avuto il piacere di persona di confrontarmi sui temi politici, sono nate delle polemiche che essenzialmente hanno fatto dispiacere la mia parte politica quanto credo la sua parte politica, il problema è che quando si rivolge a dei giovani l'accusa di essere strumentalizzati da, credo che poi si vada ad offendere le intelligenze delle persone, a quel punto il tema non è più politico ma diventa un tema personalistico e credo che sia opportuno per il sacrificio che i giovani fanno costantemente e che in questo partito hanno fatto più degli altri e sapete bene che nei momenti elettorali non ci siamo mai tirati indietro per colmare i vuoti lasciati dal partito, è giusto che quei giovani vengano rispettati e vengano rispettate le loro intelligenze, quindi diciamo lo scontro nasce esclusivamente da quello, perché credo che magari noi giovani possiamo errare, qualcuno di noi può essere più vicino a delle parti politiche, qualcuno può lasciarsi anche strumentalizzare, non è diciamo un qualcosa di inevitabile, quello che noi non accettiamo è che chi sia strumentalizzato eventualmente possa accusare i giovani di essere strumentalizzati, questo è il motivo del confronto. In una delle polemiche lei è stato accusato di aver attaccato impropriamente l'onorevole Picirno, vuole chiarire questa sua posizione. Assolutamente, io ci tengo innanzitutto per come è venuta fuori la vicenda a chiedere scusa all'onorevole Picirno per quello che poi è stato il tantam mediatico e di persone che ognuno ha riportato, però secondo me la cosa più triste di quell'episodio è stato come le donne, alcune donne del Partito Democratico abbiano interpretato quel giudizio. In quel dibattito io dicevo qualcosa di molto chiaro, noi dobbiamo riportare l'attenzione sui territori, eppure stiamo aspettando segnali dall'alto. Il tema non era aspettare chi desse ordini, chi decidesse la data, chi ci dicesse le regole, il tema era ricostruire una nostra autonomia, cambiare come viene utilizzato da una parte verso, sta anche nelle modalità, nei toni, in questi metodi. Diciamo che è stato per me più un dispiacere leggere di donne che hanno rivolto delle accuse di maschilismo e quant'altro, anche Rosita Baia in particolare. Sì, diciamo io non ho sentito di dover fare le scuse perché io non credo di aver offeso in alcun modo, io ho semplicemente fatto presente che noi come provincia dobbiamo riacquistare la nostra centralità e la nostra territorialità. Chi aspetta ancora segnali dall'alto, chi va in una commissione perché gli viene detto di dire e di fare cosa, non è qualcuno che ha la mia idea di Partito Democratico, non è qualcuno che lavora nella nostra direzione di Partito Democratico. Quindi il tema che loro hanno posto sul personale è per me un concetto politico molto più ampio. I giovani appoggiano in gran parte vitale per chi rappresenterebbe il cambiamento, perché Rosito invece non rappresenta questo? Io non credo che sia opportuno dire che Rosito non rappresenti il cambiamento. Dico che i giovani hanno fatto un percorso chiaro, innanzitutto quando nel momento più basso del Partito Democratico all'Assemblea Provinciale dello scorso giugno, noi siamo stati primi a lanciare un segnale. Il secondo segnale lo abbiamo lanciato quando c'è stato richiesto di opporsi a quello che era stato l'esito dell'Assemblea Provinciale che aveva portato alle elezioni di Cappello, mentre il gruppo dirigente dei GD ha dato la piena disponibilità al segretario Cappello a lavorare, a calmare i toni, a far sì che il partito fosse sui temi, quindi sull'ambiente, sui rifiuti, sui comuni, sul lavoro, temi che interessassero alla gente e non ai dirigenti di questo partito. Poi il percorso è continuato con una serie di incontri, con una serie di dibattiti. Noi abbiamo fatto due giorni prima della presentazione delle liste un invito ufficiale a tutte le parti politiche, a tutte le anime del Partito Democratico per far sì che insieme potessimo decidere la linea del rinnovamento. Il motivo per cui noi appoggiamo la candidatura di Vitale in larga parte non è nella persona di Vitale o nella persona di Roseto. Noi giovani abbiamo chiesto un passo indietro a delle persone che oggi hanno sbagliato in questa provincia perché il dato elettorale inconfutabile è qualcosa che non si può rinnegare. Il segnale più chiaro, io lo dico, i nostri big, quelli che sui social vengono definiti i manovratori della candidatura di Raffaele Vitale, hanno tutti fatto un passo indietro e sono tutti quanti a remare per questo percorso. Dall'altra parte questo non avviene e per lo più queste persone sono in alcuni collegi addirittura capolisti.